ciao ragazzi volevo dirvi una cosa molto seria per tutti coloro che bevono i alcolici pure io bevevo l'alcol prima andavo matto ogni sera uscivo e bevevo l'alcol però dovete capire una cosa molto importante cioè che la vita non dovete sprecarla in questo modo la vita è molto più importante dell'alcol questa cosa imparate nella vostra mente io pure prima bevevo troppo alcol però adesso l'ho capito che alcol va venduto e quelli che vendono guadagnano a loro non li frega niente se uno muore tanto muoiono 100 100 150 persone all'anno quindi se muoiono altri 30 per gli alcolici a loro non li fotte niente quindi sta a noi pensare che cosa è sbagliato e che cosa è giusto il giusto è questo volete bere ok ma non prendete il vizio se prendi il vizio muori sei finito volevo dirvi soltanto questa cosa